Dal primo dicembre sarà attivo per i distretti telefonici delle province di Firenze e di Prato, anche per le chiamate da rete mobile, il 112 numero unico di emergenza europeo. Quello che siamo abituati a pensare come il numero dei carabinieri si occuperà adesso della gestione del primo contatto e dello smistamento verso le centrali operative di secondo livello, carabinieri, pulizia, vigili del fuoco, emergenza sanitaria, eliminando anche le cosiddette false chiamate. Una sorta di 911 europeo per citare il famoso numero americano. La centrale unica di risposta in Toscana, situata a Firenze, all'interno del presidio ospedaliero Piero Palagi, è organizzata per ricevere circa 6.500 chiamate al giorno, 4 chiamate al minuto, che originariamente sarebbero confluite ai numeri di servizi di emergenza 113, 115, 118. Tra i servizi c'è anche la localizzazione e l'identificazione di chi chiama. Dopo Firenze e Prato, il NUE 112 verrà attivato ad Arezzo, il prossimo 9 febbraio, Pistoia, Empoli e Montecatini, il 9 marzo, Lucca, Viareggio e Mastacarrara, il 23 marzo, Siena, Chianciano Terme, Grosseto, Follonica, il 20 aprile e a Livorno, Piombino, Pisa e Pontedera e Volterra, il 27 aprile.